Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere qui. Come sapete l'appuntamento di questa mattina è legato alla presentazione della nuova produzione del Piccolo Teatro di Milano, Edda Gabler, con una pistola. E si tratta di fatto della prima nuova produzione di quest'anno, dal momento che ad ora sul piano delle produzioni avevamo inanellato due riprese, la ripresa di M e la ripresa di Hamlet. E quindi la prima nuova produzione del Piccolo Teatro per la stagione 22-23 e al tempo stesso è anche la prima regia che Liv Ferracchiati, in qualità di artista associato al Piccolo Teatro di Milano, firma per il Piccolo, per l'appunto. I lavori di Liv erano già stati presentati in passato qui. Ricordo lo scorso anno il Platonov che era andato in scena proprio qui al Teatro Grassi, ma di fatto questo è il primo lavoro per l'appunto firmato per il Piccolo Teatro. Non voglio rubare tempo a Liv per la presentazione della creazione. Mi limito soltanto a richiamare la ragione di una creazione di questo tipo all'interno della nostra stagione. È una stagione che, come già sapete, è dedicata ad un'esplorazione dei rapporti tra teatro e realtà e ai diversi modi di declinare questi rapporti, ai diversi modi con cui gli artisti si fanno carico di testimoniare la realtà. Credo che il percorso di Liv, da questo punto di vista, sia un percorso estremamente significativo e originale, che si iscrive dentro la linea autofinzionale, che è un territorio interessante della nuova drammaturgia contemporanea, una linea autofinzionale che in questo caso si sposa anche con il riattraversamento, la rivisitazione, la riattualizzazione dei classici, poiché questa sorta di autobiografia in maschera passa attraverso una maschera molto particolare che è la scrittura di Edda Gabler, ma non solo di Edda Gabler, diciamo, del corpus ipseniano. E da questo punto di vista, penso, aggiunga una pennellata, un tassello, una prospettiva a quella riflessione, ripeto, sulla relazione che ancora il palcoscenico alla realtà che è un po' al centro del percorso del piccolo teatro per questa stagione. Ripeto, non voglio però rubare tempo al vero protagonista dell'incontro di oggi, ossia Liv, e quindi Liv e la compagnia, e quindi lascio in prima battuta a Liv la parola perché ci racconti un poco del percorso che l'ho portato qui e delle piste che questo percorso può aprire. Grazie. Buongiorno a tutti. Per prima cosa ringrazio veramente Claudio per questa opportunità che per me è un'opportunità di crescita e di esplorare anche, diciamo così, degli ambiti proprio della scrittura scenica, mi viene da dire, che fin qui non avevo neanche ben esplorato e che con questo incontro ho l'opportunità di vivere, come ad esempio la collaborazione, voglio iniziare così un po' con Giuseppe Stellato, che io fino a qui, scusate vado un po' a ruota libera, però fino a qui non avevo mai lavorato con la scenografia un po', perché per il lavoro che faccio il centro è la parola e l'attore che la porta e spesso anche proprio per gusto personale ho sempre lavorato con gli attori in uno spazio vuoto perché volevo che il centro fossero loro e la parola. Con questo primo incontro, con il piccolo, siccome ho sempre stimato molto il lavoro di Giuseppe Stellato che secondo me, oltre ad essere uno scenografo, ha detto di molti, è anche proprio un artista e allora mi è piaciuto molto lavorare con lui e sperimentare poi nei limiti dei tempi forse innanti che una produzione comporta la scena e il suo potenziale. Questo è stato per me, insieme all'aiuto poi di Emiliano Osteri con le luci e anche poi di tutto, appunto essendo una scrittura scenica quello che faccio di tutte le componenti, quindi anche il suono di gioco magnifili, di sperimentare una parte della scrittura scenica che io non avevo mai vissuto perché appunto non avevo mai esperito come poi lo spazio scenico possa a sua volta diventare una forma di drammaturgia, una forma alternativa alla parola e parola e spazio scenico possono quindi dialogare. E quindi adesso inizio così un po' andando da rinfusa però è una cosa che mi sento di dire proprio come anche possibilità di crescita per me. La scelta di Edda Gabler che ha come sottotitolo Come una pistola carica è nata da un percorso di lettura di Ibsen che partiva da un piacere personale e quindi ho cominciato a rileggere alcuni drammi, ogni tanto lo faccio nel senso che mi piace prendere un autore e cominciare a rileggerlo e nella lettura di questi drammi a un certo punto ho individuato come un filo conduttore che è appunto questa dicotomia che mi sembra di leggere nell'autore e appunto mi assumo la responsabilità di questa lettura è tra dovere e vocazione, ovvero sia tra la natura che l'essere umano ha e il dovere che in qualche maniera la regola sociale impone e questa cosa è presente in tutti i suoi drammi in alcuni, come dire, la sua scrittura propende verso la difesa della vocazione in altri verso quella del dovere ma di fatto c'è sempre questo scontro, questo conflitto forte proprio per i personaggi ma poi quindi per l'essere umano che suppongo sentisse molto forte anche Ibsen stesso appunto tra quello che uno è portato a fare e anche desidera e quello che in qualche maniera la società in cui viviamo ma anche il dover scegliere una forma per comunicare noi stessi ci impone questa dicotomia appunto tra vocazione e natura che potrebbe essere anche detta tra Apollini e Dionisia come mi verrebbe da dire, per usare categorie estetiche niciane per me è un tema che alla fine credo di aver trattato in tutti i miei spettacoli perché per storia personale ho dovuto proprio fare i conti con quello che è appunto la vocazione e quello che è il dovere inteso proprio come forma da assumere per comunicare se stessi nel senso che partendo proprio dal percorso fatto con la trilogia sull'identità con la mia compagnia The Baby Walk abbiamo cominciato ad indagare come appunto per comunicarci dobbiamo costruirci un'identità un'identità che di fatto pensiamo essere quanto di più autentico ma che in realtà ci fa scegliere tra modelli preesistenti e più o meno cosciamente ce li fa assumere questa forma che quindi andiamo ad assumere in qualche maniera a volte è a contrasto con quello che poi si desidera e spesso appunto come racconta il percorso della trilogia e poi torno ad Edda Gabler si fa tutto un percorso di costruzione di se stessi per poi ricorgersi che anche quell'identità lì in fondo è fittizia sono delle forme assunte, dei modelli precostituiti che tu non avendo immediatamente la possibilità di scegliere come poter essere, assumi incondizionatamente e poi quando appunto fai tutto un percorso di liberazione come è stato per il racconto della trilogia dal genere femminile per poi raggiungere il genere maschile ti accorgi che anche il genere maschile è una nuova forma di cui forse sarebbe bene liberarsi o almeno assumere dei modelli e degli stereotipi ma consapevole che li stai assumendo il punto infatti non è tanto liberarsi dagli schemi quanto essere consapevoli che siamo costretti a vivere dentro degli schemi e in questo quando ho letto Edda Gabler tutta la dramaturgia di Imse ma in particolare Edda Gabler mi sono risuonate tantissime di queste tematiche ad esempio Loeborg e Edda Gabler sono due pistole cariche perché hanno una natura profondamente dionisiaca che però dovrebbe essere in qualche modo imbrigliata da delle regole Edda Gabler, come dire, vorrebbe intanto sono due che non hanno un ruolo preciso nella società tutti e due perché uno in qualche modo è un accademico però è un accademico visionario quindi qualcosa che somiglia molto alla figura dell'artista che spesso viene tratteggiata da Ibsen e pur avendo una educazione aristocratica molto alta è qualcuno che non riesce a stare nelle regole e quindi per sua natura devia, va fuori, deborda, sconfina anche poi come da trama sappiamo anche attraverso l'utilizzo di alcol e quindi questa ebrezza e spesso da Gabler stessa lo avvicina alla figura dei pampini tra i capelli e quindi a Dionis e di nuovo questo mondo dei sensi ma anche violenti ma anche un mondo dell'autodistruzione perché quelle pulsioni lì che sono anche molto utili alla creazione mi viene in mente nel costruttore Sulness quando appunto c'è questo dialogo con Hilde questa giovane ragazza e in qualche maniera lei gli ricorda che questi demoni che lui ha dentro gli sono serviti anche per creare ma che in qualche maniera lui li teme perché sa che possono portare fuori strada e questa fuori strada è quella che distrugge le borg Edda Gabler è un altro personaggio che non ha un ruolo definito infatti non vuole essere madre non vuole essere moglie di fatto non vuole essere la signora Tess ma lei è Edda Gabler non si definisce e anche lei poi va fuori strada soccombe perché non riesce a rientrare nell'organicità di una società organizzata in un certo modo che poi anche quella della borghesia che si sta costituendo di fine Ottocento e che in qualche maniera rispetto a lei stessa che è portatrice seppure secondo me di un valore del bello non del tutto metabolizzato si ritrova in un grigiore che è proprio quello della sala della sala di ricevimento della casa in cui è asfisiata e vorrebbe vivere in qualche maniera anche pulsioni forti che però non si concede non riesce a vivere come se ci fosse una forza esterna che la immobilizzasse e quindi ecco perché insomma vado a ruota libera la cosa che mi ha colpito di Edda Gabler è proprio questo questo potenziale esplosivo che c'è in questi due personaggi e tutto quello che gli sta attorno che invece tende a bloccarli uno di questi appunto l'Oeborg non ce la fa a stare dentro i confini e seguendo il Dionisiaco e sperendolo fino alla fine di fatto si autodistrugge anche abbastanza casualmente e anche abbastanza volgarmente perché poi anziché andarsi ad ammazzare come poi Edda Gabler gli suggerisce e di farlo in bellezza con un bel colpo di pistola alla tempia in maniera un po' anche alla Schiller in realtà c'è una colluttazione e lui parte un colpo di pistola si viene a sapere quindi lui muore sì ma per casualità in maniera volgare tra l'altro il colpo finisce nel basso ventre piuttosto che alla tempia e poi veramente mi taccio e lascio anche alle domande una cosa anche che c'è in Ibsen che spesso non si nota è una forma di austera comicità mi viene da dire di austera ironia di severa ironia che infatti anche con Pietra Mungiguerra Dramaturk di Scena abbiamo rilevato più volte nell'analisi del testo e poi insieme ad Andrea Mergalli nella traduzione che abbiamo fatto ad hoc che molto spesso crea delle situazioni alcune soprattutto nel primo atto anche con Tessman che è interpretato da Francesco Alberici che vedo qua in prima fila sono molto molto in realtà comiche Ibsen diceva che l'attore che fa Tessman non dovrebbe essere consapevole della comicità del potenziale comico del suo personaggio però lui ce la mette e quindi ci sono tutta una serie di situazioni di equivoci che portano portano a riso e questo spesso immaginandoci così Ibsen non viene subito in mente e poi ci sono anche altri momenti di comicità austera e anche forse anche di umorismo nero quando nel quarto atto Edda Gabler e di questo ne abbiamo parlato tanto con Petra Valentini che appunto interpreta Edda viene a scoprire come poi Loeborg è stato come morto lei pensa e spera come dicevo prima che questa morte sia avvenuta con un colpo alla tempia in bellezza e poi scopre che non è così e quindi chiede al giudice che in questo caso è interpretato da Antonio Zavatteri dice quindi non alla tempia al petto chiede al giudice e il giudice dice sì al petto signore e lei dice vabbè anche al petto va bene c'è anche questo tipo di umorismo nero che è molto presente nel testo che è un testo assolutamente tragico ma c'è anche questo sotteso rovescio della medaglia di linguaggio di registro mi fermo non so se abbiamo qui con noi anche il resto della compagnia tra l'altro per non rischiare di dimenticare qualcuno li leggo oltre al dramaturge di scena Piera Mungi Guerra di cui già ci ha detto Liv ricordo che le scene sono di Giuseppe Stellato i costumi di Gianluca Sbicca le luci di Emiliano Osteri il suono Spallarossa e il cast Francesco Alberici Giulia Mazzarino Renata Palminiello Alice Spisa Petra Valentini Antonio Zavatteri a me la cosa che ha affascinato del personaggio di Edda Gabler e mi viene da dire anche del giudice Brack perché sono due personaggi che hanno delle cose in comune cioè hanno la capacità di leggere la realtà quello che avviene mi viene da dire decodificarla in maniera quasi immediata cioè registrano come dei computer quello che accade elaborano mettono insieme i vari aspetti del reale e riescono quasi ad anticipare quello che avverrà e tutti e due sono dei manipolatori e usano la strategia di manipolare gli altri per far accadere le cose a me quello che interessava però di Edda Gabler non era tanto darle un mi verrebbe da dire per così per riassumere un giudizio morale cioè a me non interessa se Edda Gabler è come dire come spesso si dice è cattiva o no a me interessava moltissimo questa capacità di leggere il reale e di anticipare il potenziale accadimento conseguente a quello che è appena accaduto non so se mi spiego cioè mi interessava questa natura anche registica che hanno sia Edda Gabler che Braque e proprio mi interessava questa capacità di decodifica immediata delle persone che hanno di fronte e di quello che su queste persone può o non può agire può o non può creare una reazione perché perché è una modalità di analisi che mi affascina molto anche nel reale e che e che e che appartiene appunto al di là del giudizio morale a chi ha fame di di vita cioè non ama troppo la la routine anche se poi ci si trova dentro e quindi ha bisogno che le cose che le cose accadano di continuo cioè non ci sto a vivere una vita quotidiana che potremmo definire noiosa e anche nelle quattro mura in cui vivo cerco di far accadere qualcosa che mi porta un'emozione estrema è questo che mi colpisce di Edda Gabler è per questo che c'è questo sottotitolo un po' western come una pistola carica buongiorno sono Egle Santolini da Stampa allora un po' di coraggio anche da parte mia le eroine di Ibsen soprattutto Nora ma anche Edda Gabler sono state spesso rinchiuse in figurine femministe paleo femministe lei che ha tanto lavorato sul maschile e sul femminile come ha lavorato su questo aspetto lo ha preso in considerazione lo ha rielaborato rigettato insomma come ci ha lavorato grazie guardi io per come dicevo prima per storia personale rispetto al maschile e al femminile sono approdato alla conclusione che come dire non significano molto queste due parole ma al di là di quello che penso io mi viene da citare citare non proprio precisamente ma di raccontare quello che ha risposto Ibsen quando appunto ha ricevuto un premio proprio per come trattava la figura femminile per l'epoca appunto sicuramente in maniera progressista però appunto lui riceve questo premio e alla fine dice io vi ringrazio però io di fatto non faccio altro che raccontare la natura dell'essere umano mi interessa la natura dell'essere umano che in qualche maniera è vittima ad alcune restrizioni e per la nostra società dell'epoca è la donna però appunto per lui Edda Gabler o Nora sono due esseri umani e questo credo sia la prodola come dire il vero progressismo e tra l'altro ecco paladine del femminismo Nora sì Edda Gabler insomma ecco non è esattamente una riscrittura io appunto abbiamo lavorato con Piera e Andrea Meregalli prima di tutto la traduzione perché per me è fondamentale ritradurre un testo classico che è scritto in una lingua che io non comprendo quindi prima di tutto c'è stato un lavoro proprio di traduzione per ovviamente arrivare anche a una lingua che fosse più dicibile perché le traduzioni precedenti alcune delle quali anche molto molto belle erano magari più letterarie più poetiche però meno vicine alla lingua parlata poi è chiaro che bisogna il lavoro è stato quello di trovare una mediazione tra la parola che è dicibile e l'altezza anche del testo che l'originale porta con sé quindi c'è stata questa prima parte che per me è già una riscrittura una drammaturgia perché è stata è abbastanza filologica però ci sono degli inserimenti miei e ovviamente anche delle interpretazioni di alcune frasi che modificano poi gli equilibri di una scena quindi per prima cosa c'è stato questo non tutte le scene sono rappresentate anche se ci sono molte scene di Edda Gabber molte cioè rispetto ad esempio all'operazione del Platonov che era più smontato e rimontato in una drammaturgia appunto che andava a decostruire il testo qui si segue anche una cronologia perché poi il testo è molto complesso e quindi spostare anche i piani cronologici sarebbe stato sì insomma non sarebbe stato neanche quello che volevo a fianco alle scene di Ibsen c'è una drammaturgia che potremmo chiamare originale cioè che è scritta da me anche con alcuni spunti dati dagli attori della compagnia e che gioca molto sul concetto dello stare dentro e fuori dalla scena cioè su quale forma rappresentare con quale forma rappresentare lo spettacolo in teatro nello spettacolo e questa drammaturgia nuova mi viene a dire che si affianca all'originale cioè non lo riscrive si affianca e insomma non so se dirlo perché un po' come si può dire anticipa e toglie anche una sorpresa però c'è anche l'incrocio con un altro testo di Ibsen che è Quando noi morti ci destiamo che è l'ultimo testo scritto da Ibsen appunto quindi sì più che una riscrittura è un affiancamento e e e la mia e la mia lettura diciamo si interroga su che cosa è fare arte oggi in realtà perché sia in Quando noi morti ci destiamo e sia in Edda Gabler ci sono questi si parla molto di che cos'è il valore del bello e come può salvare o non salvare può salvare o non salvare sì mi fermo se ci sono delle connessioni rispetto appunto al Platonov nel senso che ovviamente Cekov è Cekov Ibsen è Ibsen però mi sembra di poter rintracciare almeno rispetto alla lettura che tu avevi fatto di Cekov anche degli elementi in comune per esempio penso a quest'idea di questi personaggi che sembrano destinate a grandi cose e poi in realtà falliscono sistematicamente e miseramente solo che Cekov è appunto Cekov e Ibsen e Ibsen volevo capire se come dire aver attraversato Cekov come hai fatto in qualche modo è servito poi per arrivare a Ibsen e se ci sono dei temi o delle cose che secondo te fanno da possibile connessione tra i due lavori secondo me il tema principale per me il tema che connette principalmente i due autori è questo desiderio di azione e insieme l'incapacità di agire da un punto di vista strutturale della drammaturgia è un po' come se questa Edda Gabler che appunto non è una regia di Edda Gabler non è più appunto una scrittura scenica in comune con il Platonov ha un personaggio che poi è quello che interpreto io anche se stavolta c'è una differenza sostanziale rispetto al Platonov perché è un personaggio che è dentro il dramma di Edda Gabler che mi viene da dire esplora il testo di Ibsen cioè è come se fosse quasi un secondo capitolo per me perché chiaramente quando poi ti trovi a lavorare in un percorso tuo i lavori sono tutti collegati cioè non ci puoi fare niente come se esplori un tema lo devi esaurire e gli spettacoli sono collegati e quindi in qualche maniera è quasi mi viene a dire uno sviluppo di quello che è successo nel Platonov poi a un certo punto la pianterò su questo cioè penso è quasi finito abbiate pazienza ci sono altre domande o anche risposte che sarebbero più gradite nel frattempo do anche qualche informazione di contesto sul sistema di attività che gravita intorno allo spettacolo dentro quella progettualità di oltre la scena che accompagna per l'appunto le produzioni del piccolo teatro parallelamente alla presentazione di Edda Gaber ci sarà una rassegna cinematografica all'interno del format Sguardi Paralleli all'Anteo che comincia il 5 di dicembre con Gruppo di Famiglie in un Interno Casa Dolce Casa il titolo di questa rassegna cinematografica poi abbiamo per la serie del Tante Care Cose un incontro dedicato alla stufa in questo caso come oggetto Sineddo che metafora immagine del testo per raccontare sotto un'altra prospettiva cosale il rapporto con la drammaturgia ibsegnana poi avremo una presentazione di libri di libro all'interno del format segnalibro la presentazione della trilogia dell'identità il volume Q-Press che raccoglie i precedenti lavori di Liv tra l'altro ne approfitto per segnalare che il testo invece di Edda Gabler sarà edito all'interno della collana dell'assaggiatore che stiamo portando avanti dallo scorso anno poi abbiamo un walk talk il 17 dicembre alla residenza Vignale quindi si continua in questa linea di esplorazione dell'interno domestico come Phil Rouge per guardare in filigrana Edda Gabler e prenderanno il via anche con Edda i pre-performance talk quindi degli incontri con il pubblico che avranno luogo subito prima dell'inizio dello spettacolo al teatro studio nel foyer del teatro studio nella cartella stampa avete tutte le date dei vari appuntamenti se nel frattempo non sono nato certo quando ha citato la bellezza Liv intendeva quella frase presunta di Dostoyevsky la bellezza salverà il mondo no non ci avevo pensato no però ecco però no solo per quello cioè quella bellezza non è la bellezza estetica è la bellezza nel senso del bene nel senso del tov ebraico cioè bello utile e giusto cioè quindi la bellezza in quanto bene quindi forse sì forse il bene salverà il mondo non so grazie grazie a lei allora sulle scene siamo partiti dal pensare a degli appunti su Ibsen appunto come se la scena dovesse andare in quella direzione dell'appunto su Ibsen e poi però per me sono diventate appunto il segno di come in teatro poi avvenga in realtà la più vera verità mi viene da dire ma attraverso sto per dire la più finta finzione ma non lo scrivete c'è veramente bruttissimo però sì no assolutamente adesso ho proprio fallito l'intervento però il senso era quello sì diciamo che c'è una quello che a me interessava fare proprio visto che Edda Gabler parla molto di convenzioni ma io lo rapporto molto a come poi scenicamente no? cioè perché le convenzioni di Edda Gabler io le associo anche alle convenzioni sceniche queste convenzioni sceniche nel corso dei quattro atti cambiano spesso e si parte per esempio da un ma no non posso dire da un rapporto col pubblico che è particolare rispetto a un testo che come dire è caratterizzato dal salotto borghese e gli elementi diciamo d'epoca ci sono perché con Gianluca Sbicca per i costumi abbiamo proprio lavorato ad una ad una contaminazione tra epoca e contemporaneo e il salotto che però se non posso dire più di tanto perché se no se no lo racconto ha degli elementi che diciamo seguono in maniera abbastanza fedele il salotto borghese però puntini puntini ecco e poi forse posso aggiungere che c'è proprio un la scena aiuta anche a creare diverse relazioni col pubblico in diversi momenti dello spettacolo cioè è come se le regole del gioco cambiassero di continuo e quindi almeno quello è il tentativo e quindi c'è sempre un attimo in cui lo spettatore deve ricostruire qual è la convenzione scelta anche come a dire che noi le convenzioni che assumiamo come date per buone e inamovibili in realtà sono convenzioni potevano essere altre un po' e questa è l'idea di base su cui io ho lavorato ecco questo io volevo un po' capire in questo gioco con la contemporaneità come si esprime poi questa dicotomia tra natura e dovere tra Pollinio e Dionisiaco partiamo da Ibis e ne arriviamo oggi non ho capito di preciso è proprio come se ci fossero una compagnia che prova Ibsen questo l'escamotage per cui la rilettura si inserisce nella drammaturgia nuova senza svelare troppo se non vuole ovviamente grazie forse devo spiegare proprio tutto allora perché altrimenti non riesco a rispondere il gioco è che ci sia una sorta di autofinzione quindi il racconto di una propria di un proprio vissuto che in qualche maniera porto io come narrazione però quello che accade è che quando mi vado a presentare seguendo un po' lo stilema del teatro di autofinzione in cui spesso si comincia con un autore che dice buonasera mi chiamo in un modo o nell'altro però quando viene il momento di dire il nome non c'è il mio nome non c'è lì ferracchiati ma c'è Eilard Lueborg e ovviamente è un gioco di autofinzione del personaggio dove però ogni tanto ci sono come delle dissonanze degli scalini perché chiaramente poi sono io che lo interpreto e quindi ci sono degli elementi della mia presunta biografia perché poi in realtà ci sono degli elementi che vanno a stridere che scricchiano via via ed è parte che è palese che io non lo sia parte che sappiamo tutti che è un personaggio ma è anche un continuo giocare sul disattendere quello che è l'aspettativa di quel personaggio per chi lo conosce ovviamente per chi non conosce il testo è una scoperta passo dopo passo per chi conosce il testo credo sia una continua disattesa anche per il fatto che appunto sono io che interpreto Löfborg o Alice Spisa che interpreta la bionda Thea Elfsted però non indosserà una parrucca infatti appunto c'è questo l'attrice giustamente recrimina la parrucca perché altrimenti non riesce a lavorare sul personaggio eccetera e poi c'è come dire un doppio salto perché è un po' come se Löfborg che racconta la sua storia e quindi questa storia molto complessa dice lui ma che di fatto poi è una storia d'amore che lui ha non vissuto con Edda Gabler incontra poi una persona della sua vita che recrimina quel ruolo come dire Edda Gabler è tutta una finzione di racconto dice la vera donna con cui ha vissuto questa vicenda sono io ed è Irene interpretata da Giulia Luna Mazzarino che però è in realtà il personaggio di un altro testo di Ibsen che è Quando noi morti ci destiamo perché a proposito di Dionisiaco e della Polinio vocazione e dovere è un po' come se fosse possibile o almeno mi sembra che Ibsen faccia in questa maniera cercare di tenere a bada determinati impulsi distruttivi sublimandoli nel fatto artistico se non ci sono altre domande ringrazio tutte e tutti per il tempo che ci avete dedicato ringrazio Liva ringrazio la compagnia vi aspettiamo naturalmente in teatro a partire dal primo di dicembre torno di debutto grazie grazie